eccoci qua ragazzi in questa nuova serie in cui paragoniamo squadre anche di diversi anni di annate diverse vediamo quale è più forte gli avrei giocatori più forti voglio partire da un classico napoli 2017 2018 napoli attuale fatemi sapere tra le altre cose altre squadre che vorreste vedermi paragonare nei commenti iniziamo dal portiere il napoli 2017 2018 aveva reina quella attuale a meret con tutto che meret sta facendo molto bene non riesco a non mettere pepe reina che era un professore del ruolo comandava la difesa con tanta leadership e personalità tra i pali ogni tanto peccava però era un grandissimo portiere di grande 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 esperienza quindi pepe reina detto ciò per quanto riguarda invece il terzino destro isai di lorenzo qua è facile il capitano giovanni di lorenzo adesso passiamo invece ai centrali di difesa ragazzi centrali di difesa a me piacciono tantissimo quelli attuali però è molto difficile paragonarli abbiamo sul centro destra albiol e racmani e tra albiol e racmani ragazzi con tutto che racmani mi fa impazzire devo scegliere assolutamente raul albiol per quanto riguarda il centro sinistra ragazzi kim sta facendo cose straordinarie un giocatore fortissimo mi piace da impazzire però tra kim e culibali bisogna per forza optare per calido culibali poi abbiamo mario rui ragazzi sulla sinistra c'è sempre lui il maestro mario rui però devo dire la verità tra il mario rui 2017 e il mario rui attuale scelgo tutta la vita il maestro attuale quindi maestro attuale passiamo al centro campo ragazzi abbiamo sul centro destra per quanto riguarda la mezzala destra all'interno destro allan e sa allan era un qualcosa di clamoroso però se dobbiamo andare sulla mia scelta personale anche per la qualità io vado su frank anghissa e poi ragazzi quest'altra pure difficilissima nel napoli attuale io mi prendo sempre stan lobotka però come valore assoluto non si può non scegliere giorginio ma ripeto nel napoli attuale mi prendo mi prendo lobo ripeto giorginio ragazzi è fenomenale non si può non prendere giorginio in questo momento aspettiamo ancora un altro poco e poi metteremo sempre stan lobotka sulla sinistra amsic e zielinski amo piotr ma è marec tutta la vita adesso passiamo al tridente offensivo da una parte caglie con dall'altra politano come si può non scegliere un professore di quel ruolo come se maria caglie con lì davanti ragazzi poco da dire adoro simen però però lì davanti si mette il marcato il miglior marcatore della nostra storia driss mertens tra insignia e kvaratschelia ragazzi qui è l'amore contro il futuro che è anche un mio pupillo qui c'è kvaratschelia per il futuro metto qui c'è kvaratschelia